Guarda che lo so, lo so, la voglio lanciare io questa volta, lo so SIGLA! Rieccoci giornati, io sono Barbara Dominici E Alice Dominici E benvenuti e bentornati in un nuovissimo video! Oggi andiamo ad aprire un pacchetto regalo Sì! Non è un pacchetto regalo, cos'è? La busta sorpresa di Tiger! Quella grande, non quella piccolina Questa costa 5 bellissimi euro Speriamo di trovare qualcosa di carino qua dentro Perché sai che le mie buste sorpresa sono sempre flop totali Incominciare subito! Cerca di non bucarti, non guardare e si seria e corretta e rispettosa verso le nostre bimbe Prenderai un oggetto alla volta e lo farai vedere a loro E sarai molto stupita perché saranno cose bellissime Vai! È Natale Alice! Ho preso le buste nello stesso periodo delle buste di Pasqua Perché questo non è pasquale ma è Natale Allora, questi sono gift box Gift box Gift box Likes? Non li torna mai Ma si chiama il dispositivo che aziono sempre? Alexa 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 Vabbè Alexa Vabbè Alexa Queste sono gift box Gift box Bravo Comunque sono semplici Le scrivano in inglese ma sono tre scatoline Che serviranno per impacchettare i regali che dovrai dare alle tue amiche Dimmi un'amica, dimmi un'amica che vuoi salutare Matilda Ciao Matilda Un bacione grande ti ho conosciuto anch'io E sì, era giusto salutarla e questa è un'esclusiva speciale per un'amica speciale di Alice Ottis Vai! Il primo è fatto! È inusile tanto, non serve a niente Vai! Ma perché mettete questa roba nelle buste? Addio Ho già rotto un pezzo Allora, questi sono semplici Semplice No, semplici Semplici Cocarde No, cardì Che io ho trovo in questa versione O se hai visto il video vecchio Il bicchio vecchio vest Visto? Eccoline Prendo quelle che si devono fare Però almeno queste sono già fatte E le utilizzerò per farti il regalo di Natale a te Sì Quale vuoi per Natale? Azzurra Vai! Secondo! Quindi per ora come la valuti questa busta? Ci sta dicendo che dobbiamo fare i regali Perché un pacco e le coccole di Natale 5 5 Mi sembrava giusto e opportuno avere dei puccini Ma queste non le avete No, queste non le bisogna fare Bisogna continuare questo video indossandole per parte Perché queste le voglio Sì Sono allegita Quella è puccino Quella è blu Aspetta scusa Sì se la mette Non mi lascia in verso di me No È puccino Ma anche di là? Sì È puccino Anche te Puccino più È puccino più È puccino più Vai Cos'è? Non lo so Age decoration C'è scritto decora Ah no bellino questo Decora le tue uova È passata Pasqua Allora ci hanno fregato Sì Non sapevo di sì No bellino ma guarda Ti prendi Lessi l'uovo Di uovo Uovo Ci sei buttata dentro È un coso Mi stai pigiando Un barattolo Non sai aprire un barattolo Pensavi che ci fosse qualcosa dentro Ah però bellino c'è scritto Contenitore per torte Scusa Scusa Tiger scusa Devi ridimensionare le tue torte Perché Hai mai mangiato una torta così piccola? Perché non è scritto biscotti No leggi Italiano Ma perché non è scritto per torte? Non è scritto per biscotti Ma che torte hai mangiato No vabbè comunque sono scioccata Io sono sciocco basita Veramente rimasta scioccatamente strana Puoi chiudere e toglierlo Grazie Il contenitore per torte Contenitore per torte Poi abbiamo trovato una busta di Natale E sono Pasqua I cucini l'abbiamo messo in testa No c'hanno anche le decorazioni per l'uovo Uovo Andiamo avanti Che cosa è? Peakers Ma buon Natale È un mix questa busta Un po' Pasqua e un po' Natale Ti senti ancora un po' Pasqua e un po' Natale Ti senti più Pasqua o più Natale? Pasqua Allora li faccio più Natale Quindi ho più roba di Natale Sto vincendo io Però dai sono molto bellini Sono stickers E li unirò ai miei 40 miliardi di stickers Andiamo avanti Nooo Bellino questo Che amo Allora che amo Questo è il calendario dell'avvento Che dovremmo andare a fare noi Dovremmo costruire le scatoline Questo un altro anno Spoilero già Questo video che verrà sul canale Un altro anno Ti sarai sempre con noi a fare video? Certo Comunque questo è bellino Perché dobbiamo fare l'avvento Gift box Di box Box Alice ma ci entri dentro Piano È psichedelico Cos'è? Un uovo Guarda Vediamo Sentiamo se è sodo Oppure Ma che materiale è? C'è qualcuno? Ora esce un pulcino a righe È l'uovo della zebra Ci uscirà Tutti ora su YouTube Stanno coltivando uova Per fare nascere pulcini Papere e roba del genere Noi proviamo a coltivare questo Vedete cosa Ci uscirà da qui dietro Una zebra Una mini zebra Con le ali Andiamo avanti Aspetta Ma prima di andare avanti Io suggerirei ai nostri amici Che se non si sono ancora iscritti Iscrivetevi Perché è? Importantissimo Ma quanto costa? Zero euro Cioè E allora perché non farlo? Perché io vedo dalle statistiche Che tantissimi di loro Ci seguono In numeri elevati Ma non si iscrivono al canale Guarda Allora per questo Il video termina qua No zia Continuiamo Vabbè Ma un like lo lasci? Sì Ora tutti Siamo in premiere Aiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaia Questi sono bellini Non so cosa possano combinarci Non puoi fare qua dentro Cosa c'è perché ci sono ancora fuccine Comunque questi servono Per fare gli spoilers Le crocchie Crocchie Tipo le ballerine Che hanno quella specie di pallozzo Qui dentro Pallozza E in italiano si chiamano Che sono curiosa anch'io ma non vedo l'italiano Come il mio solito Ciambella Eh ma fatti c'è scritto Ciambella per capelli Come l'avresti chiamata se questa Ciambella per capelli Non è vero ora l'hai saputo Vai senza sbirciare vai a prendere un altro oggetto Ma quanti ce ne è ancora No Nastro per regali ma questo l'abbiamo già trovato Sono piena di questo Alice Ora ti giuro Ma cosa ci fai se Ma perché ci mettete sempre le stesse cose Nelle buste che c'è il guia Secondo me appena entro Tutti i commessi mi fanno C'è lei c'è lei Cambiate le buste E mi danno sempre la stessa roba Visto che c'è Per fare i regali La coccarda Ci poteva essere anche i bigliettini Così c'è tutto Ci manca il regalo Cosa ci mettiamo Possiamo regalare l'uovo E abbiamo anche il cartellino Vai Allora guardate ci sono le ultime due cose Cos'è essere tu Klugel pen Pen Penna E' una penna Oh che carina Ma come fai a scrivere con quella E' scomodissima Però è il pompon Che hanno fatto Rosa Invece di farlo bianco Errore Potevate tingerlo di bianco Era molto più realistico Poi la testa Ora è senza testa Però è un coniglietto Carino e dolce Quindi adesso andiamo a rimettere la testa Ora siamo giunti ufficialmente all'ultimo pezzo Che secondo me potrà confermare o ribartare la situazione Secondo te cosa può esserci qua dentro? Pulcini Vai Esatto Finalmente Pucini Nuovi cucini Perché ci mancavano Che addobbi casa tua Di Pasqua per Pasqua? No Ma chi addobba Pasqua di casa di Pasqua? Basta Questo è l'ultimo oggetto Ve lo confermo E' qua Finito Stop Conclusa Spero vivamente Che questo video vi sia piaciuto Il mio pezzo preferito di oggi Sono questi qua Perché voglio farli E vedere anche di che grande Te l'uovo hai scelto Vuoi vedere se veramente c'è dentro una zebra Alata Andrai a covare la zebra Quindi a questa busta io do un 6 e mezzo Dai per 5 euro Per l'uovo No per tutta la busta Quanto dai? 8? Sì Sei generosa Sei buona Quindi anche il video di oggi Può dire si è terminato Se il video vi è piaciuto Lasciateci un bel like Anche all'uovo zebra Vi vogliamo tantissimo bene E i baci I baci Tanti baci a tutti Ci vediamo al prossimo video Ciao Così con Ciao Bye Ciao!